Ciao, sono Federica Carone e sono la responsabile dell'atelier Fede Morgana. Ho 30 anni e mi occupo da oltre 10 anni di sartoria storica, sartoria contemporanea, abiti da sposa, cerimonia e corsi di formazione sempre nel settore. La libertà inizia dalla testa perché bisogna avere il coraggio di indossare l'abito dei propri sogni e anche trasportarci in un'altra epoca se lo desideriamo. La mia frase, il mio motto è la bellezza salverà il mondo. Ciao!